Ed è l'architetto Michele De Lucchi a firmare l'arena, un anfiteatro dove ci si può incontrare per parlare di progetti, design e architettura. Due mostre sul genio di Leonardo, volute dalla Fondazione Giordano e presentate al fuorisalone le reinterpretazioni dei parchi più classici. La materia incontra la cultura, un luogo dedicato alle persone, i protagonisti sono i materiali, i prodotti della produzione industriale italiana, ma viene ritrovato qui il gusto di incontrarsi, di guardarsi in faccia. Michele De Lucchi disegna uno spazio di relazione.